Occhio alla notizia in studio Marco Ferri In questa edizione di Occhio alla notizia Acquaroli firma l'ordinanza che colora di arancione 20 comuni marchigiani della provincia di Ancone Partita la somministrazione del vaccino per gli over 80 nella provincia di Pesaro Urbino Presto toccherà ai non autosufficienti Migliorano le condizioni di salute del Vescovo di Fano Trasarti In ospedale a scopo precauzionale da alcuni giorni Alcolici ai minorenni, multato e chiuso dalla polizia, un pub del centro storico di Fano E Massimiliano Amadori, il nuovo capo di gabinetto del comune di Pesaro Prende il posto di Arceci che rimarrà per un altro anno a titolo gratuito Il comune di Fano presenta il piano strategico del turismo Un documento di 300 pagine elaborato dall'assessorato al turismo per rilanciare Fano nel mondo Tra poco in diretta su Fano TV Primo cittadino con il sindaco di Fano Massimo Serra L'informazione locale sul canale 17 di Fano TV Benvenuti cari telespettatori all'appuntamento con Occhio alla Notizia È ufficiale, il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli Ha firmato l'ordinanza in vigore fino a sabato 27 Che vieta lo spostamento tra i comuni della provincia di Ancona e colora di Arancione 20 città marchigiane Dopo una settimana di monitoraggio della corsa del virus Il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli Ha seguito di un confronto con la presidente Anci Marche E di sindaci dei comuni maggiormente colpiti dal virus Ha firmato l'ordinanza che resterà in vigore fino alla mezzanotte del 27 febbraio Saranno 20 le città della provincia di Ancona Che dalla mezzanotte di oggi si coloreranno in arancione In questi comuni saranno valide le disposizioni contenute nel DPCM nazionale Stop alle attività di ristorazione Resta consentito l'asporto fino alle ore 18 per i bar E fino alle 22 per i ristoranti e la consegna a domicilio Restano aperte le scuole di ogni ordine grado Con gli istituti superiori in presenza al 50% Chiusi invece i battenti di mostre e musei Per i comuni che entrano in zona arancione È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita Salvo per comprovate necessità Tutti gli altri 27 comuni della provincia anconetana Resteranno gialli ma con limitazioni agli spostamenti Vietato ogni spostamento in un comune diverso Da quello di residenza, domicilio o abitazione Salvo per comprovate esigenze Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata È consentito nell'ambito del territorio comunale Una volta al giorno in un arco temporale Compreso fra le ore 5 e le 22 Sono consentiti poi gli spostamenti dai comuni Con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti E per una distanza non superiore ai 30 km dai relativi confini Con esclusione in ogni caso degli spostamenti Verso i capoluoghi di provincia Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza Domicilio o abitazione L'ordinanza della regione inoltre conferma sempre L'uso dell'autocertificazione Riguardo alle cause giustificative dello spostamento È infine fortemente raccomandato Lo svolgimento dell'attività didattica Con modalità a distanza Negli istituti scolastici In cui si registra un aumento dei casi di contagio Da Covid-19 Mi dispiace veramente Dover prendere un provvedimento simile e così sofferto Ma la salute e la sicurezza dei cittadini La tenuta delle strutture sanitarie E la salvaguardia degli operatori Devono essere sempre al primo posto Ha scritto in un post su Facebook Il presidente Francesco Acquaroli Quelli che da domani fino alle ore 24 di sabato 27 febbraio Entrano in zona arancione Sono i comuni dove si registra il maggior incremento di contagiati Gli stessi annunciati ieri Raccomando, ha concluso il presidente Di rispettare tutte le precauzioni E di continuare a fare attenzione E come ogni lunedì si registra Un calo dei positivi al virus Dovuto anche alla diminuzione Dei tamponi processati Nell'ultima giornata ne sono stati Rilevati 117 Di cui 7 nella provincia di Pesaro Urbino Negli ospedali invece ci sono 15 ricoveri in più rispetto a ieri In aumento sia i pazienti in terapia intensiva Che quelli in semi-intensiva I decessi sono 9 Intanto proseguono le vaccinazioni Nella provincia pesarese A breve partirà anche la somministrazione A domicilio per gli anziani Non autosufficienti È venuto a fare il vaccino Ha deciso di farlo Altro che Non vedevo l'ora Sono contento di essere qui e farlo Per stare più tranquillo poi Sicuramente Per me e per gli altri Anziani in fila Al pala Carneroli di Urbino È il codma di Rociano Afano Dove continua la campagna Di vaccinazione agli over 80 Iniziata sabato scorso In ciascun comune Dalle 8 alle 20 Sono state somministrate Circa 340 dosi E tutto procede Come previsto E senza disagi Domani e mercoledì Si proseguirà Il centro sociale Della Celletta A Pesaro È andata bene in tutta Tra le sedi Devo ringraziare anche Marche Nord Perché gli infermieri di Pesaro E del codma Qua sono dati da Marche Nord Quindi stiamo lavorando insieme Quindi diciamo Sta procedendo abbastanza bene I piccoli disguidi Che ci sono stati Tipo Mettere insieme le fiale Eccetera È stato risolto E quindi non abbiamo più Avuto assembramenti Per le persone non autosufficienti Che quindi non riescono a recarsi Nei vari punti di somministrazione Che cosa farete? Allora le persone non autosufficienti Ultraottantenni Chiaramente in questo momento Ma poi dovremmo pensare anche Alle persone fragili Perché non sono soltanto Gli ultraottantenni A domicilio Finalmente a livello ministeriale È stato firmato l'accordo Con la medicina generale Quindi di concerto Con il medico Nel medico generale Cercheremo a domicilio Come stiamo facendo Per le strutture residenziali Quindi insieme al medico Nel medico generale I nostri operatori Che sono rappresentati Dall'infermiere Dall'amministrativo Che deve caricare I dati delle vaccinazioni Cercheremo a domicilio Per vaccinare Tutte le persone Che per qualche motivo Non sono potute recare I nostri centri vaccinali La regione deve ancora deliberare Precisa Magnoni Ma è probabile Che questa attività Inizi durante la somministrazione Della seconda dose Intanto proseguono i vaccini Ai 3.000 pazienti Ricoverati nelle strutture residenziali Qui si pensa di terminare il piano Entro la prima settimana di marzo Il direttore dell'area Vasta 1 Ha poi ringraziato Tutti gli operatori Per l'impegno profuso Stanno dimostrando Uno spirito di allegazione Molto molto importante Non guardano l'orario di lavoro Ma si recano Anche perché Ha visto la mattina Che siamo a 7.30 Quindi per un operatore Che ha fatto il turno Anche il giorno prima È pesante Speriamo che Tutto quello che sta verificando Per gli ultratantenni Si verifichi anche per quelli Sotto 80 anni In maniera tale Deve riuscire a vaccinare La maggior parte possibile La popolazione Che è l'unico sistema Che abbiamo Per contrastare questa pandemia Molto molto seria Che ancora ci sta Ci sta perseguitando Rimane fondamentale Arrivare con la modulistica Già compilata Si Ribadiamo il concetto Che un grosso supporto Viene dal fatto Che le persone Che devono essere vaccinate Vengono già con i moduli Precompilati È importante anche Che arrivino Negli orari giusti Perché altrimenti Rischiamo degli assembramenti Quindi mi raccomando Le persone devono venire qui A vaccinarsi Nel fasce di orario In cui sono state convocate Farà il vaccino Questa mattina? Questa mattina Sì Ha già compilato Tutti i fogli Completo Firmato Tutto a posto Come mai ha deciso Di venire qua Il COTMA E quindi di ricevere il vaccino? Perché? Per stare un po' più tranquillo L'ha vista la situazione Sempre chiuso in casa E quindi È una decisione Da prendere Via Come mai ha deciso Di farlo anche lei? Eh io Ho 80 anni Allora È bisogno che li faccio Speriamo bene Dai Io ho preso Per mia socia È da compilare 97 anni 98 anni Sono venuto a chiedere Se li possono Venire a casa Perché dal 20 C'era la possibilità Di far venire a casa A fare i vaccini Questa gente Non cammina Allora Questo a me Allora Deve tornare il 15 Dalle 10 alle 11 Tessera sanitaria Di documento C'è qualcuno con lei? Sì Come si sente? Bene Puntualità Professionalità E gentilezza Bastano tre parole? Quindi si è trovata bene Con il personale sanitario? Sì Benissimo Benissimo Ha sentito un po' di dolore O sopportabile? È sopportabile Sopportabile Siete abituati Insomma ad altro? Ha fatto la miniera In Germania Quindi il vaccino È diciamo Una sciocchezza Ecco oggi Sì Però ecco dai Bisogna farlo Bisogna farlo Soprattutto perché Comunque penso Che sia il male minore Di fronte poi al virus Dobbiamo un po' Tutelarci Tutelarli anzi Tutto bene Si sente bene adesso? È tranquilla? Tutto bene Sto quasi per uscire Veramente Tutti gentili Tutti bravissimi Ho trovato una cosa Prima ero un po' Caggitata Poi sono calmata Nel modo di come si comportano Giustamente Non me ne sono neanche accorta Che mi hanno fatto il vaccino Sta bene anche lei? Buonissimo Buonissimo Sto benissimo Meglio di così Non sto bene Insomma lei lo consiglia il vaccino? Sì 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 perché le malattie vengono Però è chiaro Ci aiutano Ci danno il mezzo Il mezzo può aiutarci Se uno può non lo fare Allora proprio È il cervello che è sbagliato È da fare Da fare È grazie a Dio Che si è trovato questo virus Se fa bene Fa male Speriamo che fa bene Speriamo Che finisca tutto il prima possibile E migliorano le condizioni di salute Del vescovo di Fano Armando Trasarti Ricoverato in ospedale Che ha contratto il virus Martedì scorso Il vescovo Non necessita di supporto di ossigeno La saturazione risulta normale In aria ambiente Ed è sereno e fiducioso Prosegue anche la terapia antivirale E la somministrazione di plasma iperimmuno Che dovrebbe completare Mercoledì prossimo L'Ufficio Comunicazioni Sociali Della Diocesi Fa sapere anche Che il suo segretario Don Luca Santini È negativo al tampone Ed è in via di miglioramento La polizia di Fano Ha chiuso un pub Nel centro storico E sanzionato il titolare Che somministrava Gli alcolici A ragazzi minorenni Genitori preoccupati Per i figli minorenni Si sono recati Al commissariato di Fano Per segnalare Un episodio increscioso E illegale Al Green Pub Noto locale Del centro storico Molti ragazzi Anche minori Di 18 anni Avrebbero consumato Bevande alcoliche Un fatto accertato Poi dagli agenti Diretti da Stefano Seretti Che hanno svolto Un'attività di vigilanza Hanno posto L'esercizio Sotto osservazione E scoperto Che quanto segnalato Corrispondeva Alla realtà I poliziotti In effetti Hanno notato Un consistente movimento Di giovani Verso il locale Dove stazionavano In gran numero Sia all'interno Che all'esterno E dopo aver visto Palesemente i minorenni Bere gli alcolici Hanno proceduto A un controllo Dieci di questi Quasi tutti i sedicenni Stavano consumando Cocktail A base alcolica Acquistati nel pub I ragazzi Sono stati accompagnati In commissariato Dove sono stati convocati I genitori Subito informati Dell'accaduto Il titolare Dell'esercizio È stato sanzionato E il pub è stato Immediatamente chiuso Al pubblico All'uomo inoltre È stata contestata La violazione Delle norme Anticontagio A causa di un'eccessiva Presenza di avventori Anche seduti ai tavoli Per questo motivo Come misura accessoria È stata disposta La chiusura del locale Per cinque giorni Infine Gli agenti del commissariato Insieme alla polizia Locale di Fano Hanno svolto Gli accertamenti Amministrativi Nei confronti Del circolo sportivo Che si affaccia Sul lago Solazzi Dove a fine gennaio I poliziotti Avevano sequestrato Alcune dosi di cocaina E arrestato Il socio del circolo Un cinquantenne fanese Dagli approfondimenti È emerso Che l'attività Veniva svolta In assenza Della scia Ovvero L'autorizzazione necessaria Per avviare Un'attività di impresa Pertanto Gli agenti Hanno proceduto Alla contestazione Con conseguente sanzione Di mille euro E chiusura Dell'attività I carabinieri di Urbino Hanno denunciato A piede libero Un cinquantatrenne Di origine campana Già noto Alle forze dell'ordine Per il reato Di ricettazione Introduzione Nello stato E commercio Di prodotti Contraffatti L'uomo È stato fermato Dalla radiomobile A trasanni Di Urbino All'interno Del bagagliaio Dell'auto Sulla quale viaggiava I militari Hanno trovato Trenta capi Di abbigliamento Di provenienza Illecita Il materiale È stato sequestrato E l'uomo Denunciato All'autorità Giudiziaria A Pesaro Il sindaco Della città Matteo Ricci Ha nominato Massimiliano Amadori Capo di gabinetto Massimiliano Amadori E il nuovo capo Di gabinetto Del comune di Pesaro Prenderà il posto Di Franco Arceci Che va in pensione Ma continuerà Per un anno A lavorare Gratuitamente Per il comune Lo ha annunciato Questa mattina Al sindaco Matteo Ricci Che ha spiegato Di aver concluso Sabato La procedura Per la selezione Amadori È una persona Di grande onestà Di cui mi fido Ceccamente Ha detto Ricci Ha alle spalle Un lungo impegno Nel quartiere In consiglio comunale Nelle società Partecipate Oltre ad un'esperienza Politica notevole In questi anni Ha dimostrato Una grande capacità Di lavoro Dialogo E confronto Con le persone Lo dimostra Anche il grande Consenso elettorale Ottenuto durante Le amministrative Del 2019 Amadori Però c'è tutta la volontà E la passione Per provarci E poi l'encomio Da parte del sindaco Ricci A Franco Arceci In comune Dal 2005 Prima come portavoce Di Ceriscioli Poi come capo Di gabinetto Di Ricci E il nostro CR7 Un fenomeno Della pubblica Amministrazione Così l'ha definito Il primo cittadino Sempre il primo Ad arrivare Anche l'ultimo Ad andarsene Anche nei giorni In cui scoppiò La pandemia Ha sottolineato Un uomo Dalle eccellenti Abilità organizzative E capacità Relazionali Coniugate a una Non comune Attitudine All'ascolto Doti Che gli hanno Permesso di conseguire Risultati di rilievo Abbiamo deciso Insieme col sindaco Di proseguire Almeno per un altro anno Questa esperienza Per cui farò Lavoro volontario Insieme con il sindaco E con La volontà Di aiutare Il nuovo capo Di gabinetto Ad assumere Meglio possibile Questo ruolo E questa funzione Perché Il ruolo Di capo di gabinetto È un ruolo Che È molto vario E bisogna Farlo Interpretando Le necessità Dell'amministrazione Comunale E del sindaco Però Dico che Il ruolo Di capo di gabinetto È un ruolo Che Ti porta A Lavorare A 365 Su tutti i temi Dell'amministrazione Comunale Quindi O in un modo O in un altro Con maggiori risultati O con minori risultati Però Quasi In ogni cosa Dell'amministrazione Comunale Ci si Senta coinvolti E si è coinvolti Il Comune di Fano Il Comune di Fano presenta Il piano strategico Del turismo Un documento Di 300 pagine Elaborato Dall'assessorato Al turismo Per lanciare E rilanciare Il nome di Fano Nel mondo Una sorta Una sorta di faro Che detterà Le linee guida E le strategie turistiche Per i prossimi anni È il risultato Del lavoro Di analisi Sul settore turistico Realizzato Dall'assessorato Al turismo In collaborazione Con il destination manager Josef Iarche Che insieme Hanno redatto Un documento Di circa 300 pagine Poi riassunto In un vademecum Che il Comune di Fano Utilizzerà Ed adotterà Nel piano strategico Del turismo 2020-2024 Confrontandoci Sia con il mondo Del ricettivo Sia con le associazioni Culturali Capendo come Il mercato turistico Ci percepisce In questo momento È stato stilato Un piano strategico Che finalmente Mercoledì 24 In diretta streaming Sui canali Visit Fano E Comune di Fano Alle ore 18 Insomma Presenteremo Alla città Il documento Che sarà presentato Mercoledì 24 febbraio Alle 18 Dallo stesso Josef Iarche Presso la chiesa Di Santa Maria del Gonfalone Ed in diretta streaming All'intento Di rendere Fano Maggiormente percepita Dai mercati E oltre ad organizzare Strutturalmente Il lavoro Da effettuare Nei prossimi anni Grazie ad una rete Pubblico privata Suggerisce come valorizzare Le specificità Culturali Della città Tramite azione Di marketing E comunicazioni Un'analisi Che acquisisce Un valore aggiunto Visto che In tempi di covid Le necessità Dei turisti Sono ulteriormente Cambiate Un piano vero Che dobbiamo adottare Convintamente tutti Ovviamente Che noi come amministrazione Porteremo avanti Ma che anche tutti Gli stakeholder Del turismo Dovranno adottare Per far crescere La nostra città Siamo in chiusura Ma prima di salutarci Apriamo un attimo L'album di Fano TV Ci sono dei festeggiamenti Da fare Una coppia Formata da Dorgiano Colombaretti E Fiorenza Serfilippi Di Marotta di Mondolfo Che sabato scorso Hanno festeggiato 50 anni di matrimonio Tra poco Le previsioni del tempo La pubblicità E poi in diretta Il primo cittadino Di Fano Massimo Seri Che risponderà Alle vostre richieste Alle vostre domande Grazie Per averci seguito L'appuntamento Con l'informazione Per domani mattina Alle 7 Con la rassegna stampa Arrivederci Grazie